buona domenica oggi corsetta nel mio parco preferito sono parito un po tardi ormai siamo al quarto appuntamento di questo esperimento penso che voi ormai andate capito la mia dipendenza da corsa è nato un po tutto per caso però adesso un po di tempo che vado senza troppi problemi ha due difetti principali questo tracciato il primo più grande la ritorno è tutta in salita il secondo è che non genera una bella traccia sul gps avevo detto che il tracciato non era granché però dai anche questa l'abbiamo portata a casa sono molto contento adesso doccetta poi volevo fare ghiaccioli oggi allora ghiaccioli al limone perché a me piacciono al limone o all'anice e l'anice non ce l'ho e poi non verrebbe blu e quindi facciamo il ghiaccioli al limone quindi spremiamo il limone c'è bisogno di circa 150 ml di limone che poi andremo a diluire un po con l'acqua penso che forse tre limoni possono bastare anche se questi po sono un po piccoli quindi a 150 ml di limone ci aggiungiamo 300 d'acqua e poi una buona quantità di zucchero secondo me ci vanno minimo 4 cucchiaini però ne metto 3 e poi vedo ok questo zucchero mi ha colorato il limone l'hai reso un po più arancione però buono lo stesso spero siamo pronti per metterli negli stampi mi fermo un po prima perché sono davvero grandi questi stampi con queste quantità ne dovrebbero venire circa 6 e poi freezer una roba così posso andare solo in piscina e niente in fin dei conti non sono stato molto bravo a vloggare questa settimana qui spiegavo che l'unico giorno di piscina era un giorno nuvoloso e non è stata una grandissima idea farsi il bagno perché faceva quasi freddo dopodiché ho provato a convincere i miei amici e guardare questi stupidi video blog e penso di non esserci riuscito soprattutto con giacomo alla fine i ghiaccioli non erano niente male qui provavo a togliere la spada nella roccia qui e verificavo la mia dipendenza da ghiaccioli fatti in casa invece qua ho continuato a svolgere le mie attività lavorative invece qui potete vedere un esemplare di ingegnere del cinema appena l'han proclamato che spiega come mangiare un panino senza sbrodolarsi nel mezzo del reggiuseno